Il Salento sta vivendo da mesi una situazione drammatica quanto intricata, che vede le popolazioni schierate con determinazione contro le istituzioni e in difesa del loro patrimonio agrario e paesaggistico. Esse ritengono infatti che il piano di eradicazione degli ulivi imposto dal governo non sia sufficientemente giustificato dalla presenza di un batterio, la xylella fastidiosa, la cui origine e diffusione suscitano per di più molte perplessità. La vicenda presenta altresì un risvolto legale in quanto amministratori locali, associazioni e singoli cittadini hanno fatto ricorso alla magistratura per tutelare i loro diritti. Il territorio di Manduria non è stato finora inserito nel piano di eradicazioni, ma potrebbe esserlo da un momento all'altro sulla base di un semplice sopralluogo da parte del corpo forestale, poiché si trova ai confini con la zona considerata infetta. Proprio per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti del fenomeno, attraverso la testimonianza di esperti e protagonisti, affinché la cittadinanza e in particolare gli agricoltori possano attrezzarsi a fronteggiare una simile evenienza, si è svolto a Manduria un convegno organizzato dai Verdi in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Taranto. Diciamo che la cosa fondamentale è restituire ai cittadini la conoscenza, la comprensione di quello che sta accadendo, perché dall'alto hanno preso delle decisioni molto radicali, che sono quelle di desertificare, perché non viene usata questa parola ma è questa la realtà. Bisogna abbattere gli alberi di olivo, secondo la decisione del governo italiano, ed abbattere anche 300 altre specie vegetali, altrimenti non funziona la strategia che è stata messa in atto, che secondo noi è una strategia folle, perché non si può distruggere per salvare. Quando si distrugge, si distrugge e basta, si fa il deserto. Quindi noi vogliamo restituire ai cittadini la conoscenza. Gli agronomi più liberi ci dicono che questa strategia del piano Silletti è forviante, non risolve il problema. Col batterio bisogna imparare a convivere, come è successo per esempio con le batteriosi nei kiwi, hanno imparato che dopo aver distrutto mille ettari di kiwi, hanno dovuto convivere con i kiwi, ma convivono con i batteri anche in Australia, con i kiwi in Australia, soltanto da noi si è deciso invece di abbattere. Invece la convivenza tra batterio e albero di olivo deve portare però l'albero di olivo a vivere nelle condizioni migliori, quindi buone pratiche agricole fondamentalmente. Parlando di xylella e informazione, questa problematica mette davvero in risalto le difficoltà di informare correttamente? Ma certo, perché ai giornalisti succede che oggi informano avendo poco tempo anche per poter ragionare. Qui bisogna entrarci dentro, perché questa è una vicenda che riguarda gli aspetti agronomici, ma riguarda anche i livelli del controllo politico, i livelli delle mistificazioni che vengono fatte e anche quelli economici. Questa è una vicenda di 1,5 miliardi o 2 miliardi di euro. Questo è il valore economico generale che comporta questa cosa. Quindi un giornalista, un cronista ha delle serie difficoltà nel tempo che ha in una redazione per poter affrontare. Bisogna studiare. Si faceva una volta, si studiava, si andava in profondità e si faceva in chiesta, altrimenti è meglio non parlarne. L'obiettivo dei Verdi è sicuramente quello di lanciare delle informazioni corrette su questo argomento molto dibattuto, ma anche c'è tanta confusione. Sì, c'è tanta confusione. Infatti abbiamo voluto fortemente promuovere e realizzare questo convegno con relatori di un'importanza notevole, dall'amministrativista al sociologo, giornalista, ma anche all'esponente dell'associazionismo, all'agronomo. E poi come relatore abbiamo anche messo un agronomo, il nostro Pompeo Ostano, insomma, abbiamo voluto fortemente dare delle notizie, anche perché Manduria sembra che sia ancora indenne, però la parte superiore, la parte nord di Manduria, rientra in quella zona Cuscinetto. Ad oggi ancora non c'è nulla di chiaro, non c'è nulla di specifico, però è tutto a divenire. Non sappiamo noi quello che veramente può succedere. Ecco, il nostro impegno è dare, appunto, da politico, è dare notizie e informazioni come è la situazione reale in questo momento, cioè per quanto riguarda la Xylella, cosa si sta facendo con questo piano Silletti e soprattutto come si sta sbagliando con il piano Silletti. Ma è poi comunque la solita storia, cala dall'alto un piano, sembra quasi regionale, poi nazionale, poi dicono no, ma ci muovi un po' nell'Europa. Come un po' in tutte le cose che nell'arco degli anni ci è accaduto nel nostro territorio, iniziando dall'Ilva e con quella famosa corsa alla nuova industria, ma anche, per esempio, notizia ultima anche col depuratore, con gli attacchi che stiamo vivendo da parte di assessori della Comune di Bari o anche il Presidente della Puglia Film Commission, che appunto ci stanno sparando contro la... stanno, diciamo, sì, dando i loro giudizi negativi su una vicenda la quale conoscono ben poco, ma serve soltanto a difendere lo status quo loro, semplicemente quello. Ecco, un altro aspetto che avete voluto curare è quello giuridico, perché anche in questa fase, in questa problematica interviene la magistratura con i TAR e diciamo hanno anche un loro ruolo. Dove la politica non arriva poi alla magistratura deve mettere sempre mano, deve aggiustare le cose e in questo caso anche, sì, ci sono rivolti alla magistratura diversi cittadini, 40 aziende, 40 olifici, 26 associazioni, una trentina di aziende che usano il biologico, l'ultimo è stato quello del VUF, per dire, cioè diverse aziende, diverse persone, diversi cittadini hanno dovuto fare ricorso contro l'eradicazione, soprattutto contro l'eradicazione dell'olivo che non è infetto e che però rientra nei 100 metri, soprattutto contro questa regola.